Il buon Alessandro Cecchi Paone si sposerà, da come si legge su web, con il suo fidanzato di nome Simone. Non mi dico il cognome per motivi di praosi. I due dunque hanno deciso di sposarsi, i due ex naufraghi dell'isola sono pronti a celebrare il matrimonio. Infatti ha fatto sapere lo stesso Cecchi Paone nelle ultime ore che a celebrare Nozze sarà con ogni probabilità la simpatica Emma Bonino, famosa politica dei radicali, se non vado errato. Precisamente sarà un'unione di tipo civile davanti ad Emma Bonino che si svolgerà prima di Natale. E' stato lo stesso Cecchi Paone arriverà allo a chi. Se dovessero andare a cambiare cose nel nostro paese ci sarà l'invito di Cristina, ossia la ex moglie di Cecchi Paone. Dunque sarà una nuova vita per il buon Cecchi Paone e il buon Simone attuale fidanzato di Cecchi Paone di cui non mi rivelo in noi con i due motivi di praosi. Sembra che però tra i due ci sia un feeling, un amore, una voglia di stare insieme molto forte. C'è una forte chimica. Questo è quello che si legge anche su web. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi carissimi esibili utenti di YouTube. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano e commentate. Sia ben chiaro che questo video non vuole, ripeto, non vuole, reggere la praosi di Cecchi Paone né dell'attuale fidanzato di Simone, ma solo informare e stop. Lasciate solo per questo video, non per altri motivi. Ciao a tutti e una buona giornata. Ciao a tutti.